Oggi più che mai, dopo gli ultimi episodi di cronaca, è importante dire basta alla mattanza di donne in corso. Il caso di Giulia e tutte le altre, numeri impressionanti da inizio anno. Oggi all'Aquila la ministra Eugenia Roccella, proprio per dare il via alla campagna di diffusione del numero 1522, numero verde nazionale antiviolenza e stalking, che sarà sui autobus del servizio pubblico all'Aquila. Occasione per parlare anche della legge sulla violenza, già approvata in camera e che ha preso spunti anche dalle proposte dell'opposizione. Guardi, noi l'apertura all'opposizione su questo tema l'abbiamo fatta immediatamente, tant'è vero che questa legge, cioè non la legge sull'affettività, ma la legge contro la violenza, che è in Parlamento, è stata già votata alla Camera all'unanimità e sarà votata dopodomani al Senato, spero e penso anche all'unanimità. Quello che abbiamo voluto fare con questa legge è proprio non di reprimere dopo che le cose sono avvenute, dopo che il delitto è avvenuto, ma di prevenire, quindi di interrompere il ciclo della violenza attraverso delle misure, come le misure cautelari, come l'ammonimento, che non è nemmeno una misura cautelare, cioè che è iniziativa del questore e con cui a volte già si risolvono alcune situazioni poco pesanti, diciamo, e con soprattutto la fissazione di tempi certi per la valutazione del rischio da parte dei magistrati e quindi l'adozione delle misure cautelari. L'AMA ha all'esito degli autobus con la pubblicità del 1522, un numero attivo 24 ore su 24, a disposizione tutti i giorni delle donne vittime di violenza. Campagna fatta dal Comune per volontà dell'assessore alle pari opportunità, si da lancia del sindaco Biondi, realizzata in collaborazione con AMA e con il settore trasporti, che viene lanciata in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ma che andrà avanti anche in altri periodi dell'anno. 1522 è un numero salvavita, i dati ci dicono che tutte le volte in cui questo numero viene portato all'attenzione e promosso, le donne trovano il coraggio di chiamarlo, si impennano le chiamate. Noi adesso dobbiamo mettere le donne in sicurezza, aiutarle, convincerle a denunciare, perché la violenza va fermata sin dalle prime avvisaglie. Grazie a tutti.